Ciao a tutti, diamo il via alla registrazione, siamo questa sera insieme a Laura Maffei, Francesca Panzica e Simone Bionda e questo webinar è dedicato a European School Education Platform che è la nuova veste di e-tweening, parleremo questa sera con Laura, Francesca e Simone che sono tre ambasciatori Erasmus Scuola e vedete tutti e tre hanno grande esperienze e sono da molti anni sulla piattaforma e-tweening e Laura è una docente di scuola secondaria di primo grado, Simone è un docente di scuola secondaria di secondo grado e Francesca è docente, vedete scritto già docente perché non insegna più pur essendo giovanissima e sempre molto attiva in Europa e con la progettazione e con tante altre cose e era docente presso l'istituto comprensivo La Strassigna. Laura Maffei per dare solo qualche nota biografica dei nostri tre ambasciatori, insegna lettere all'istituto all'IC2 Ernolfo di Cambio di Colle Valdensa, è l'animatore digitale della sua scuola ed è prima ambasciatrice twinning e poi adesso è diventata, sapete, forse qualcuno di voi che segue twinning ed Erasmus ha visto che c'è stata una call per diventare per reclutare gli ambasciatori Erasmus Scuola ed è pedagogical advisor presso la European School Net che probabilmente molti di voi conoscono, è una rete di scuole ed è una rete che si occupa appunto una rete pedagogica che si occupa di collaborazione internazionale. Francesca è stata docente di scuola primaria, adesso è in pensione e ha una lunghissima esperienza nel campo dell'insegnamento della lingua e delle lingue straniere ed è esperta nell'uso delle tecnologie nella didattica, partecipa a numerose sperimentazioni con Indire, con il Kremit ed European School Net ed è autrice di testi che sono stati pubblicati dalla Ericsson e da Oxford University Press. È, tra noi, una delle twinner, forse batte anche Laura, contraddicetemi se sbaglio, ma arriva proprio dalla primissima guardia, forse Laura anche tu nel 2005 o tu sei? 2005 anche io. 2005 quindi abbiamo due fra le fondatrici di e-twinning, due ambasciatrici fondatrici di e-twinning. Invece Simone è un docente di liceo linguistico presso l'educandato Santissima Annunziata di Firenze, è docente di spagnolo a liceo linguistico ed è membro dell'equip formativa territoriale per la Toscana, nonché membro della segreteria nazionale LEND, lingua nuova didattica che chi fra noi si occupa di didattica delle lingue sicuramente conosce. Io invece sono Simona Bernabei, sono referente pedagogica e twinning per la Toscana che da tempo coordino i webinar che il nostro gruppo toscano organizza, ha organizzato sia in tempo di covid, quindi sia in tempo di quarantena a casa e di didattica a distanza piena, che prima che dopo abbiamo sempre creduto nella didattica a distanza, abbiamo sempre lavorato sulla formazione a distanza e tra l'altro durante il periodo della quarantena abbiamo fatto due progetti dedicati in qualche modo alla didattica a distanza e anche all'interazione fra docenti, uno era i twinning Toscana a distanza e l'altro era My Quarantine Diaries e abbiamo nel tempo sviluppato un progetto di formazione a distanza sostenuti, vi ricordo che questo è un programma di formazione biannale che ogni due anni noi rinnoviamo grazie alla progettazione e coprogettazione fra i vari attori di questo gruppo, oltre al gruppo e twinning Toscana che è composto dagli ambasciatori, qui ne avete tre e ce n'è un altro gruppo molto folto, molti di loro sono a voi sicuramente noti, potete trovare tutti i nostri riferimenti sulla piattaforma ESEP con i rispettivi riferimenti mail, quindi se avete bisogno di contattare uno di noi avete il nome, la faccia e l'area di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica e naturalmente in coprogettazione con l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, questa sera è con noi anche la referente istituzionale Maria Antonietta Marini e la nostra precedente referente istituzionale Daniela Cecchi che sono due docenti di staccate che si occupano presso USR di progetti internazionali e poi naturalmente coprogettato insieme all'unità nazionale Twinning Indire e ovviamente all'agenzia Erasmus Plus Indire oltre che alla scuola Polo che si occupa un po' di tenere le fila amministrative di questo progetto che è il liceo statale Antonio Rosmini di Grosseto. Io ho finito con le presentazioni, passerei la palla letteralmente a Laura Maffei che inizierà il webinar di stasera, vi ricordo di lasciare le vostre domande in chat, noi abbiamo una chat che seguiamo alternativamente, proveremo a rispondere a quante più domande possibile in fondo in coda alla sessione e in fondo alla sessione vi daremo anche delle notizie sulle future formazioni tenute da altri ambasciatori, tra l'altro questa sera sono con noi molti degli ambasciatori che poi rincontrerete in questo programma di formazioni a distanza e in presenza e vi daremo anche alcune indicazioni operative su un servizio di help desk che stiamo approntando perché abbiamo una grande richiesta da parte di molti docenti. Laura, a te la parola. Sì, perfetto. Allora intanto buonasera a tutti, mi fa piacere vedere che c'è questa partecipazione insomma anche se su i twinning. Allora io, ecco, infatti non dicevo non vedo più la presentazione. Allora vi dico prima di tutto quello che è il percorso che vogliamo fare insieme questo pomeriggio. Quindi innanzitutto vi vogliamo dare un'idea di quello che, ciò che si può fare con i twinning, cosa si può fare con i twinning e cosa si può fare con i twinning in questo momento. Perché come sapete i twinning è in questo momento in fase di trasloco, un trasloco che è appena avvenuto e quindi ci troviamo, siamo passati da itwinning.net a European School Education Platform per, diciamo, raccogliere i twinning insieme a tutte le opportunità che sono offerte dalla Commissione europea proprio nell'ambito dell'istruzione. In questo momento, che è un momento di trasloco, come sempre quando si affronta un ambiente nuovo c'è un po' da esplorarlo. Allora io vi chiederei, ho visto che l'audience è abbastanza divisa, ci sono persone che hanno già avuto esperienze in e-twinning e altre che invece sono totalmente nuove a quest'azione e vorrei aprire un attimo con una contestualizzazione di e-twinning. Chiedo anche a chi è già più esperto in quest'ambito di pazientare per questi 5-10 minuti perché secondo me ricordare da dove veniamo e la collocazione proprio di e-twinning può essere utile anche per capire come può essere sfruttata andando avanti. Quindi una prima parte del nostro incontro è dedicata a una parte generale su cosa si può fare con e-twinning e perché farlo, anche da dove veniamo, e poi prendiamo in esame veramente i primi passi nella piattaforma, fermo restando che è nuova per tutti e quindi c'è ancora da mettere a punto una gran parte degli strumenti. Ora vi dico quella che è la nostra filosofia in quest'ambito, cioè immaginate come di trasferirvi in una nuova scuola più moderna, più grande. Ecco se quando arrivate non funziona l'ascensore e dovete prendere le scale non è che non rientrate più in quella scuola perché non faceva l'ascensore. Allora vediamo ora insieme le opportunità che ci può offrire e-twinning e poi come possiamo utilizzare gli strumenti che sono ora a nostra disposizione. D'accordo, allora se scorriamo alla prossima slide vi do un'idea da dove veniamo. Che cos'è e-twinning? E' bene ricordarselo, è una delle azioni del programma Erasmus 2021-2027, se vedete questo è il sito, è anche la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Allora prenderei in esame le due cose separatamente. E-twinning è proprio un piccolo excursus su quello che è. Come dicevamo poco fa, nasce nel 2005 e come azione della Commissione Europea Educazione e Cultura per la costruzione di uno spazio europeo per l'istruzione, per la comunicazione tra le scuole, la comunicazione tra gli studenti e quindi costruire un po' i cittadini europei di domani. Se ci pensate, io ho fatto l'università alla fine degli anni 90, Erasmus al tempo era rivolto agli studenti dell'università. e quindi si trattava in quel momento, cioè, di dare la possibilità di conoscersi agli studenti di diverse scuole in Europa, anche agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria, quindi un'opportunità di conoscenza. Successivamente, originariamente era nell'ambito dell'e-learning, quindi se ci pensate, dal 2005 a oggi sono passati 20 anni, vi dico quando siamo nati perché, cioè, dà anche un'idea di che patrimonio, di esperienze, di formazione, di opportunità, insomma, di buone pratiche, abbiamo messo insieme nel corso degli anni. Prima stava sotto l'ambito dell'e-learning, ha seguito quella che è la direzione che ha preso la scuola in questi anni, cioè, prima l'ambito della, quella che oggi si chiama transizione digitale, e che al momento era pionieristica, oggi è diventata la realtà, e poi si è spostato sotto l'ambito dei progetti europei. Ora, in questo momento, si trova sotto il brand Erasmus, che copre tutte queste azioni. Da questo punto di vista, appunto, rientra nelle azioni della Commissione europea. In cosa consiste? Consiste in una community, una comunità di pratica, anche qui non è niente di nuovo, Wenger è degli anni 90, anche lui, parla di comunità di pratica, ma veramente riassume quello che è i twinning, un insieme di, in questo caso, insegnanti, che appartiene a creato una comunità che risiede su uno spazio virtuale, a un sito, uno spazio su cui si incontrano, e materialmente cosa succede? Che voi vi iscrivete, siete già iscritti, dopo la collega vi farà vedere come, ricordate che io mi iscrivo, ma se dopo non mi interessa, non c'ho tempo, non ci voglio lavorare, non succede assolutamente niente, resta una delle tante iscrizioni che avete fatto, ma che in futuro vi può servire. Posso lavorarci subito, posso non lavorarci, posso prendere altri tipi di opportunità, posso solo esplorarla, la piattaforma. Se non ci lavoro, il vostro profilo prima diventa dormiente, poi può essere eventualmente anche eliminato. Nel caso migliore io entro in questa, mi registro in questa piattaforma, entro e trovo una pluralità di offerta, ma generalmente che cos'è? Incontro altri docenti, incontro altre scuole, possiamo creare dei percorsi progettuali comuni, lavorarci insieme con gli alunni, e questo è il twinning gemellaggio elettronico. Creo delle reti di scuole che possono collaborare insieme. La piattaforma mette a disposizione uno spazio che si chiama TwinSpace e che poi vediamo insieme, su cui si può lavorare. Se andiamo alla prossima diapositiva, vediamo quali sono, ecco, cosa ci posso trovare dentro a questa piattaforma, poi la guardiamo insieme. Allora, è nato prioritariamente per i progetti, cioè io mi registro come insegnante della scuola, la mia è IC2 Ernolfo di Cambio, entro, mi registro, conosco un altro insegnante di un'altra scuola europea, mettiamo insieme le nostre idee, posso portare dentro le mie idee o posso scegliere di seguire quelle di qualcun altro, ci sono dei forum, banalmente, dove io presento la mia idea progettuale, cerco partner, e posso collaborare e lavorare insieme con i partner. Successivamente si è evoluto anche il campo della formazione, cioè è chiaro che questo insieme di docenti che si trovava lì dentro, da una parte fa, faceva e fa autoformazione, cioè ci sono gruppi tematici dove si dibattono vari argomenti, c'è quello della lingua inglese come lingua seconda, c'è quello dello spagnolo, c'è quello delle tecnologie, tantissimi, e quindi si può fare autoformazione, ma ci sono anche corsi di formazione strutturati, anche questi poi ve li faccio vedere dove si trovano, anche qui mi scrivo, sono la voce successiva e il riconoscimento, sono riconosciuti, mi viene rilasciato un attestato di partecipazione se porto in fondo il corso di formazione, se non ce l'ho fatta, che succede? Niente, prendo quello che mi serve e magari non ho completato il corso, ma ho raccolto idee, ho raccolto materiali, ho raccolto, ho trovato partner, ho conosciuto altre persone, cioè fondamentalmente alla base di Twinning ci sta la rete degli insegnanti, i contatti, se ci pensate, come su qualsiasi social. E riconoscimento anche da parte del Ministero, a partire dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto i Twinning, quindi ciò che si fa ha un valore anche proprio formativo riconosciuto. Poi ci sono anche i riconoscimenti propri di Twinning, che sono premi, sono occasioni di certificazione di qualità, eccetera, e poi ovviamente scambio, lo scambio in generale. Tutto questo in una chiave di collaborazione, collaborazione tra scuole in Europa. Come Erasmus partecipano, siamo appunto una parte di Erasmus, partecipano tutti i paesi dell'UE e anche alcuni paesi che hanno scelto di aderire all'azione, per esempio la Turchia e alcuni altri paesi. Non aderisce all'azione il Regno Unito, purtroppo. Prima di andare avanti vi faccio notare un'altra cosa. La sicurezza. Allora, la piattaforma e-twinning è sicura. Ora, cosa significa sicuro? La sicurezza al 100% online, nemmeno Fort Knox, però è sicura perché? Perché quando voi vi iscrivete, e così tutti gli insegnanti europei, chiunque si iscriva, viene chiesto non solo il nome e il cognome, ma anche la scuola d'appartenenza. E quando voi completate la registrazione, non siete immediatamente attivi. Sarete attivi solo, quindi potete interagire sulla piattaforma, solo quando l'Agenzia Nazionale vi valida, cioè verifica che quella persona sia realmente esistente, sia realmente un insegnante che lavora in quella scuola. Ciò significa che dentro questa piattaforma è molto difficile che ci sia qualcuno che non sia un insegnante. E siccome i ragazzi vengono inseriti nella piattaforma, nemmeno nella piattaforma, nel TwinSpace, dagli insegnanti stessi, i ragazzi che sono dentro troveranno sempre altri ragazzi e altri insegnanti verificati. Questo è importante perché siamo ora in un momento in cui le nuove tecnologie, insomma, e specialmente i contatti online, sono interessantissimi per tutti. Per noi particolarmente in questo momento c'è il PNRR e quindi siamo subissati di offerte. Ecco, tanti dicono il mio prodotto, la mia piattaforma è sicura perché è password protected. Grazie, tutto è password protected. Anche l'account di TikTok. Però voi vorreste che i figlioli andassero in giro su TikTok la sera o preferireste che fossero a chattare con il loro partner i twinning? Quindi se il ragazzo la sera sta con il partner i twinning, anche se non stanno parlando di scuola, ma si contattano sul Twin Space, intanto stanno in un ambiente sicuro. E poi resta comunque una dilatazione del tempo scuola e un passo in quella direzione che vuole la Commissione Europea, cioè la conoscenza reciproca tra gli alunni di diverse parti d'Europa. E vi assicuro che resta uno strumento potente e estremamente motivante perché tutti abbiamo imparato con la DAD a collaborare a distanza e pensate che noi che eravamo coinvolti in i twinning era dal 2005 che collaboravamo a distanza, ma ora tutti più o meno gli insegnanti hanno la possibilità, insomma hanno avuto la possibilità di utilizzare una pluralità di strade per comunicare a distanza con i propri alunni. Ecco, perché buttare tutto? Perché mettere tutto da parte? Si possono utilizzare queste competenze che abbiamo acquisito per arricchire la nostra didattica, per collaborare in Europa e fare un passo anche nella direzione dell'integrazione, se ci crediamo. E se siamo qui, immagino che ci crediamo tutti. In ogni caso, veramente per rendere più, di maggior impatto ecco anche la nostra azione come insegnanti. Non è solo per insegnanti di lingue, ovviamente io ne sono testimonianza, io insegno lettere, però ci sono delle strade attraverso le quali tutti possiamo contribuire. Allora, nella slide successiva vi ho dato un'idea di quello che è, questo è il piano Erasmus 2021-2027. Come vedete ci sono le tre azioni. Penso che molti di voi avranno partecipato o staranno partecipando all'azione Erasmus, quindi Key Action 1 che è la mobilità per l'apprendimento. Qui è la maggior parte dei fondi, in questo momento è convogliata qui perché si cerca di rendere la mobilità sia del personale che la mobilità degli alunni, degli studenti, un qualcosa che sia a regime, un qualcosa che tutti o la maggior parte possibile delle persone sperimenti nell'ambito della propria carriera o del proprio percorso scolastico. L'azione chiave 2 che sono i partenariati e l'azione chiave 3 che sono di supporto alle politiche. Ecco, ho messo con i twinning è meglio perché queste azioni sono azioni finanziate. I twinning non è finanziato. Allora spesso viene visto come il fratellino povero di Erasmus perché non è finanziato. Va detto però che è vero che non porta materialmente fondi ma non costa niente. è uno strumento che ci permette di fare una didattica collaborativa senza spese tranne il tempo che noi ci mettiamo come docenti. Il nostro tempo ha un costo, è vero, però è uno dei tanti strumenti che scegliamo e quanto tempo dedicarci lo decidiamo noi. Quindi può stare i twinning da solo e ha un suo valore va sicuro assolutamente motivante, non ultimo perché permette di utilizzare per esempio la lingua per la funzione per la quale è nata per comunicare e gli alunni rendono molto meglio se comunicano in una lingua due con altri studenti che non recitando all'interno della loro classe ma funziona particolarmente bene con i programmi di mobilità perché se ci pensate se voi avete qualsiasi azione di mobilità o un partenariato e vi vedete la mobilità avviene una settimana ogni anno per tre anni pensate di lavorare con i partner una settimana ogni anno per tre anni e basta e tutto il resto farlo per mail. Ecco si può accompagnare il progetto con una collaborazione costante quotidiana che può avvenire sui twinning quindi posso conoscere i miei partner posso conoscere le scuole dove farò job shadowing posso continuare a collaborare se è un partenariato quindi ci sono una pluralità di funzioni che i twinning può avere nello stesso modo sui twinning se vado a cercare partner sia per i twinning sia per Erasmus sono sicura di trovare scuole che sono riconosciute che sono scuole davvero che sono scuole registrate e attive nei progetti europei vi do un'ultima idea nella diapositiva successiva come fare per orientarsi allora per orientarsi un ultimo minuto veramente di attenzione a questo perché perché c'è una una piattaforma centrale che è quella che guardiamo stasera European School Education Platform qui voi vi registrate ora ve lo fa vedere la collega qui troverete l'accesso per creare i vostri progetti per cercare partner per aderire a percorsi di formazione per vedere tutte le opportunità a livello internazionale sui twinning su Erasmus eccetera però ogni paese ha anche la propria agenzia nazionale e quindi abbiamo anche un sito e nella prossima diapositiva la nostra agenzia nazionale è l'Indire questo è European School Education Platform quella dopo ancora dopo questa la guardiamo insieme eccola qua e questa è Twinning Italia questa è la piattaforma è su Indire se torni un attimo indietro Simona almeno si vede anche l'indirizzo eccola qua questo è Twinning Italia è itwinning.indire.it qui questo è lo spazio italiano non ci si lavora qui qui si prendono le informazioni e c'è le informazioni c'è la formazione a livello nazionale c'è il supporto c'è un help desk che funziona e a cui sempre si viene data risposta ci sono i contatti siamo molto fortunati come i toscani perché la nostra agenzia nazionale che è l'Indire sta a Firenze e quindi il ce l'abbiamo anche vicina rispondono anche al telefono e anche riconoscimenti tutto quello che riguarda a livello nazionale si trova qui e compreso appunto un help desk molto funzionante quindi molto attivo per cui ecco se trovate problemi a livello tecnico probabilmente è preferibile l'help desk e-twinning Italia se avete bisogno di supporto a livello didattico va benissimo la rete degli ambasciatori cioè se c'è un bug è chiaro che chi come loro ha una visione come l'agenzia nazionale ha una visione su migliaia e migliaia di utenti può sapere se si tratta di un bug o di un errore magari da parte nostra ci mettiamo la buona volontà ma non possiamo risolvere quello che è il bug ok lascio la parola a Francesca che vi fa vedere la procedura di registrazione grazie Laura e ritorniamo quindi un attimo alla European School Education Platform per noi vecchi i twinners è stato veramente un momento rivoluzionario perché in tutti questi anni ormai eravamo abituati a lavorare in una piattaforma che se nel tempo era migliorata poteva avere i suoi difetti però in qualche maniera ci dava una certa sicurezza e trovarsi così all'improvviso in questo cambiamento grosso cambiamento ovviamente qualche problema l'ha creato anche noi un po' destabilizzati ci siamo sentiti anche noi perché questa nuova piattaforma è stata lanciata nel 2022 dalla comunità europea dalla commissione europea proprio con l'intento di unificare tutti tutti i servizi legati all'educazione all'istruzione in un'unica piattaforma appunto infatti in questa piattaforma confluisce i twinning ma confluisce confluirà anzi devo usare il futuro tra breve anche la school education gateway che era una piattaforma molto che è tuttora una piattaforma molto interessante e valida sul piano della formazione in particolare segnalo la teacher academy all'interno che ha sempre offerto corsi di formazione molto interessanti per gli insegnanti al momento questa piattaforma è ancora a sé stante però entro breve verrà inserita dentro ESEP ecco chiamiamola con l'acronimo da questo momento in poi possiamo andare avanti ESEP è una piattaforma aperta a tutti coloro che in qualche maniera si occupano quindi di educazione a vario titolo quindi non solo insegnanti di ogni ordine scuola insegnanti anche di prescuola scuole professionali dirigenti ma anche ricercatori e decisori politici infatti si sviluppa su tre livelli un primo livello è quello proprio basico della piattaforma ESEP che è aperta a tutti tutti si possono iscrivere a questo livello permette una personalizzazione del profilo sono tutte cose che vedremo proprio tra poco ha una sua offerta formativa per il momento limitata aumenterà nel momento in cui entrerà anche School Education Gateway e offre delle occasioni di sviluppo professionale può essere utile per la ricerca di persone ed enti però a questo livello non permette di organizzare dei progetti ad esempio quindi è un primo livello che può interessare soprattutto per una navigazione a scopo informativo il secondo livello è dato appunto dalla piattaforma E-Twinning Per passare dal primo livello al secondo livello è necessaria un'ulteriore registrazione perché proprio perché per quello che ha detto Laura prima perché i Twinning no andiamo indietro per piacere grazie proprio perché i Twinning è un ambiente sicuro e protetto dove poter lavorare con gli alunni ecco che quindi è necessaria una una validazione ulteriore rispetto a quella della piattaforma ESEP in cui possono entrare tutti dentro i Twinning ha già detto Laura si possono trovare partner creare progetti ci si può formare partecipare a gruppi partecipare alla community che per il momento è in progress e sottolineo quello che ha detto Laura non entrare in Twinning che non significa dover per forza fare subito un progetto consiglio sempre di entrare navigare cominciare a frequentarla diciamo e pian piano impossessarsi di tutte quelle competenze necessarie che poi portano alla creazione di progetti con partner stranieri che rappresentano quindi il terzo livello quello ancora più alto quello a cui si accede solamente quando si è creato un partenariato un progetto riconosciuto anche dall'agenzia nazionale e il terzo livello quindi è dato dal Twin Space che poi verrà presentato ed è quello il cuore diciamo di Twinning là dove si sviluppa il progetto dove si sviluppa la collaborazione dove si includono gli alunni dove si può anche documentare a me piace sempre pensare ai Twinning come un ambiente di apprendimento ecco il Twin Space è un ambiente di apprendimento permette veramente la costruzione di competenze da parte degli alunni che insieme costruiscono il proprio sapere andiamo avanti e adesso non vogliatemene perché il discorso diventerà tecnico a questo punto come entrare in ESEP innanzitutto bisogna creare un EO login per chi non ha mai avuto un EO login e non è mai stato registrato alla piattaforma i Twinning non è assolutamente un problema segue il nostro percorso e lo fa tranquillamente qualche problema ci può essere invece se ci sono queste situazioni la prima è questa non ho un account EO login però ero già registrato alla vecchia piattaforma i Twinning forse a qualcuno di voi può capitare una situazione del genere ecco in questo caso bisogna creare un account accedendo al portale che qui vedete la cosa importante è creare l'account utilizzando lo stesso indirizzo email con cui ci si era registrati a due Twinning ecco questa è una cosa che sottolineo perché altrimenti ci sono problemi la seconda situazione invece della prossima slide è quella di una persona che ha già un account EO login perché magari ha già partecipato a un progetto Erasmus normalmente il coordinatore di un progetto Erasmus doveva sempre avere un account EO login per poter entrare e lavorare in quelli che sono i materiali del progetto anche a livello burocratico e quindi può avere un account EO login tra parentesi l'account EO login è personale ogni insegnante se lo se lo può fare non se lo può fare una scuola ad esempio deve essere legato proprio ad una persona fisica quindi situazione ho già un account EO login ero già registrato alla vecchia piattaforma i Twinning in questo caso le strade sono due se la mail dell'account EO login che avevate già fatto coincide con quella della registrazione i Twinning non ci sono assolutamente problemi si va avanti i lisci problemi nascono invece ed è successo proprio a me personalmente quando la mail dell'account EO login non coincide con quella della registrazione di Twinning ed è collegata ad una piattaforma Erasmus dove magari c'è anche un progetto in atto ecco in questo caso nel mio caso ad esempio il mio progetto ormai era chiuso io sono in pensione per cui non ho avuto problemi ma se se avessi cambiato l'indirizzo EO login praticamente sarebbe sparito tutto quello che io stavo facendo nel progetto quindi si consiglia vivamente in questo caso se avete dei progetti in atto di non cambiare assolutamente l'indirizzo EO login ma creare un nuovo account EO login con l'indirizzo email usato per la registrazione di Twinning rimane sempre importante questo fatto EO login se ne possono creare finché si vogliono se ne vogliono non è un problema questo qui l'importante però ripeto è che la mail sia la stessa della registrazione di Twinning altrimenti diventa problematico entrare una volta creato andiamo avanti una volta creato EO login cosa succede beh qui vediamo praticamente la mascherina d'accesso vi chiederanno nome cognome l'email con la conferma dell'email scegliete la lingua potete mettere l'italiano però in questo periodo spesso torna fuori l'inglese cliccate su create un account dopo aver flaggato ovviamente tutto ciò che riguarda la privacy quindi create un account e attendete che vi arrivi nell'email che avete dato un messaggio che vi manda il link su cui dovete cliccare per completare la procedura una volta cliccato su questo link che vi è arrivato vi chiedono di cambiare la password di mettere la nuova password ovviamente sotto state attenti a quelli che sono i requisiti che richiedono per che sono poi i soliti di quando si 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 crea una password andiamo avanti si invia e arriva il messaggio che ci dice che la nostra password è stata cambiata con successo proseguiamo e a questo punto ci arriva il messaggio che noi ci siamo loggati con successo nella piattaforma ESEP finito il primo passo Leo Login è stato creato a questo punto dobbiamo andare nel secondo livello e andiamo appunto a registrarci in ESEP l'indirizzo l'avete visto prima comunque verrà ripetuto nel secondo livello la registrazione in ESEP ci chiede di di dare informazioni riguardo a noi stessi quindi appariranno il nome il cognome l'email che abbiamo già inserito per avere l'eologin dobbiamo scegliere la lingua ecco qui e ci chiedono che tipo di membro siamo io non ho messo tutta la lista che viene fuori io so che tra le persone che oggi ci stanno seguendo ci sono anche dei dirigenti c'è anche la possibilità di cliccare su Principal mi sembra oppure Headmaster uno dei due ecco alla fine di questa lista che si apre troverete Teacher che è l'opzione che dovete scegliere non scegliete Student Teacher e neanche Teacher Educator vi dico però chi sono gli student teacher sono gli studenti universitari del percorso ITE praticamente un percorso che è stato voluto dall'Unione Europea e dall'Unità Centrale Twinning all'università per formare i futuri docenti con conoscenza già del programma Twinning e Teacher Educator sono gli insegnanti tutor che li seguono quindi voi dovete scegliere Teacher scegliete il tipo di educazione che io penso che School Education sia quello adatto a tutti le le discipline di vostro interesse queste sono quelle che ho messo io per esempio ecco le materie vocational subjects vanno bene per le scuole professionali quindi le potete lasciare il paese di lavoro ricordatevi di afflagare il quadratino che in cui accettate i termini e le condizioni di ESEP dopodiché andate su next e arrivate a questa quest'altra pagina no dobbiamo tornare un attimo indietro grazie arrivate in questa pagina che vi dice che siete registrati ma in quanto insegnanti avete la possibilità di iscrivervi anche ad eTwinning come vedete qua sotto ci sono le due opzioni questa ha poco senso se siamo arrivati fin qua è ovvio che vogliamo anche entrare nella comunità eTwinning quindi ricordiamoci di cliccare su questo andiamo avanti e arriviamo a quello che è il terzo passaggio la registrazione in E-Twinning praticamente questo è quello che abbiamo visto un attimo fa all'interno di Twinning dobbiamo completare con ulteriori informazioni una delle cose importanti da fare a cui prestare anche particolare attenzione è se la nostra scuola è già registrata in E-Twinning prima di fare questo passaggio è bene informarsi all'interno della scuola con i colleghi con il dirigente se la scuola magari sia già registrata in E-Twinning è possibile che l'abbia fatto magari un docente ormai in pensione come è successo ad esempio nella mia scuola se non è presente nel database i Twinning eventualmente si può inserire però bisogna prestare attenzione perché ormai sono tante le scuole iscritte dentro i Twinning quindi è necessario essere sicuri cioè evitare magari di iscrivere due volte la stessa scuola e creare doppioni qui c'è scritto attenzione al bug tra un po' vedremo perché quindi individuata la scuola o aggiunta se non presente si devono anche in questo caso accettare le politiche sulla privacy e condice di condotti Twinning cliccare su next e andiamo avanti col con il nostro percorso nella prossima slide ecco che viene fuori il discorso bug nel cercare l'organizzazione per vedere se la vostra scuola è già inserita se voi inserite il nome della vostra scuola molto spesso non non viene fuori il risultato della ricerca è nullo questo è dovuto appunto ad un problema che i tecnici della commissione europea stanno cercando di eliminare si consiglia di inserire una parola chiave dentro ad esempio io ho inserito l'astra l'astra signa è la mia città ho provato ad inserire l'astra è venuto fuori subito l'istituto comprensivo la strassigna nel caso ad esempio di Vinci se uno dove quell'esempio che è riportato qui se se dovete inserire l'istituto comprensivo statale Leonardo da Vinci comparirà un lungo elenco di scuole che contengono la parola Vinci all'interno della loro denominazione quindi sarà necessario mettersi con pazienza a cercarlo e cliccarci poi sopra in certi casi vedete se conoscete l'ID della scuola diventa anche più semplice attenzione anche su questo perché mi è capitato con una collega e me ne sono accorta per caso chiedendole l'amicizia diciamo all'interno di e-twinning ci possono essere casi di omonemia tra istituti comprensivi e scuole paritarie infatti la collega non riusciva a risolvere il problema mi sono accorta io dopo che risultava insegnante in una scuola paritaria non nel comprensivo statale dove effettivamente opera e quindi abbiamo risolto il problema con l'agenzia quindi parola chiave se dall'elenco non si riesce a individuare con certezza la scuola comunque si può sempre modificare anche in seguito andiamo avanti a questo punto siamo alla registrazione in e-twinning vedremo da vicino la creazione del profilo diciamo velocemente soltanto che per la registrazione e-twinning è necessario compilare un form caricare una foto si riceve anche in questo caso una mail di conferma dell'avvenuta registrazione e da quel momento in poi dobbiamo solo aspettare che il nostro profilo venga validato dall'unità e-twinning Italia per i motivi che aveva detto Laura prima l'unità e-twinning controlla che effettivamente siamo insegnanti e che la nostra scuola effettivamente esista questo per garantire la sicurezza della della piattaforma e di tutti quelli che ci devono lavorare vediamo quindi adesso la questione del profilo che non è prossima slide che non è una semplice registrazione perché il profilo e-twinning ha un suo particolare valore proprio nel momento in cui noi possiamo creare partenariati o possiamo cercare possibili partner per nostri progetti abbiamo visto prima che ci chiedono di mettere una foto ecco mettiamola noi scherzando diciamo che in i-twinning noi ci mettiamo sempre la faccia e questa può essere una battuta ma è importante in un profilo vedere la foto della persona una foto in cui si veda il viso della persona prima di tutto perché in i-twinning lavoriamo attraverso le tecnologie che sono molto spesso impersonali in qualche maniera avere l'immagine la foto della persona con cui lavoriamo ci ci rende il tutto un pochino più personale quindi è consigliabile assolutamente metterla come del resto è consigliabile fare una descrizione il più possibile esaustiva di quello che facciamo di quelli che possono essere i nostri interessi perché possono aiutare un nostro possibile partner in cerca di un collega in cerca di un possibile partner per un progetto ovviamente anche a livello psicologico siamo spesso attirati più da persone magari con cui condividiamo gli stessi interessi ci chiedono il nostro ruolo all'interno della scuola quindi dovremo mettere le materie di insegnamento scegliere l'età l'età dei nostri alunni e ovviamente flaggare la disponibilità per un progetto i twinning aggiungiamo la scuola ecco che di nuovo rappare la possibilità di aggiungere la scuola se non era stata fatta prima selezioniamo il paese cerchiamo l'organizzazione tutto il discorso del bug di prima che ritorno dichiariamo di accettare tutte le condizioni sulla privacy flaggando qui ricordiamoci di farlo andiamo su next arriviamo appunto al nostro profilo vero e proprio e dopo la descrizione e dopo la visibilità che vogliamo abbia ricordiamoci di mettere la time zone Rome nel nostro Roma nel nostro caso le lingue parlate gli argomenti a cui siamo interessati come vedete sono tante le informazioni che chiedono perché sono tutte informazioni utili appunto per trovare anche un partner con cui lavorare qui ci chiede se vogliamo ricevere la newsletter io consiglio di dire sì perché ci arrivano informazioni anche in merito a corsi di formazione che vengono attivati per noi insegnanti ecco una cosa particolarmente utile di twinning oltre a tutto quello che ha detto Laura da ex insegnante di lingua straniera è proprio anche la possibilità di interagire e di fare formazione in lingua straniera perché ci permette un uso continuo della lingua parlata che in qualche maniera ci aiuta anche a tenere sempre attiva la nostra conoscenza linguistica quindi benvenga anche questo aspetto utile anche per chi conosce poco la lingua perché ci sono la si può anche imparare insieme attraverso i progetti e sono tanti casi di twinners che sono arrivati con una scarsa conoscenza della lingua e poi l'hanno migliorata via via proprio lavorando con colleghi comunque i progetti twinning possono essere fatti anche con scuole italiane un'innovazione che era stata messa recentemente ovviamente la partecipazione di partner stranieri aiuta maggiormente quello che è il processo di internalizzazione scusate alla papera della scuola quindi possiamo decidere la lingua della newsletter e dare qui e riappare di nuovo l'email per le notifiche che ci arriveranno se poi siete attive sui social potete inserire i link per cui le persone vi possono magari trovare anche all'interno dei social una volta personalizzato profilo andiamo avanti siamo arrivati alla fine del nostro percorso prima di chiudere c'è la possibilità qui di aggiungere eventuali altre organizzazioni e questo serve in maniera particolare per docenti o per dirigenti che magari lavorano su più scuole quindi un supplente ad esempio ha la possibilità magari uno che sta lavorando o un insegnante che ha la cattedra su due scuole può succedere ha la possibilità di aggiungerle entrambe possono farlo anche i docenti tutor dei percorsi di formazione universitaria e lo stesso gli studenti che magari stanno facendo il tirocinio proprio in una scuola con un progetto e-twinning aiutando la scuola in un progetto e-twinning ecco questo comunque l'aggiunta di un'organizzazione si può sempre fare anche in seguito andiamo avanti ultimo step in chiusura andiamo a verificare il nostro profilo abbiamo chiuso la nostra registrazione ritorniamo su ESEP perché su ESEP riappare il nostro profilo quindi facciamo login clicchiamo sul nostro nome in alto a destra selezioniamo il mio profilo e qui verranno fuori tutte le informazioni che abbiamo inserito durante le fasi precedenti di registrazione e ovviamente se qualcosa non non torna è possibile sempre aggiungere o eliminare o correggere andiamo avanti la cosa da controllare ripeto è soprattutto la scuola l'agenzia ce lo ribadisce continuamente perché sono sempre alle prese con doppioni che vanno eliminati nel vostro profilo vedrete tutto quello che avete inserito ed è qui su edit profile che potete eventualmente modificare addirittura potete modificare anche la mail di riferimento qui come vedete vi appaiono anche il numero dei contatti che via via avrete e che vi verranno spiegati dopo e qui come dicevo prima anche dentro ESEP è possibile eventualmente aggiungere un'altra organizzazione non è necessario ritornare dentro i twinning lo si può fare direttamente da qui bene a questo punto andiamo alla prossima slide il mio compito è finito vi chiedo scusa per la la barbosità purtroppo i passaggi sono tanti e possono risultare poco poco friendly diciamo comunque noi siamo a disposizione per per aiutarvi nel anche durante la registrazione e verrà messo appositamente uno sportello anche per per questa fase di lavoro vi lascio quindi nuovamente alla mia collega Laura per esplorare ESEP eccomi bene allora se avevo messo come immagine di esploriamo ESEP avevo messo quell'immagine che Indiana Jones e il tempio maledetto eccolo qua e ce l'avevo messo per un motivo perché insomma è una in questo momento l'esplorazione è un po' complicata però diciamo che insomma se avete visto il film alla fine dentro il tempio maledetto c'è un bel gioiello insomma quindi speriamo di essere fortunati come Indiana Jones allora vi do soltanto alcune linee essenziali per esplorare la piattaforma innanzitutto ci vuole un minimo di pazienza perché al momento le pagine caricano con un po' di lentezza ciò nonostante ci sono alcuni alcune pagine sono vuote ci sono però alcuni ambiti alcuni contenitori che possono essere interessanti e vi prendo veramente solo cinque minuti però ci tengo a farveli vedere allora andiamo alla prossima diapositiva e in questa diapositiva ecco qui vedete com'è l'interfaccia una volta che vi siete registrati e avete fatto il login se vedete in alto a destra ci sono io che ho una notifica e non sono dentro i twinning sono nella parte del veramente nell'apertura della piattaforma sulla home non c'è niente c'è scritto soltanto questo welcome to european school education platform sono andata a about e ci sono alcune informazioni se aprite il menu a tendina alcune sono semplicemente sul funzionamento del di esep su la mission anche la vision che stanno dietro a questa a questa piattaforma e a questa innovazione quello che può essere interessante per noi è i twinning and nso e poi le national agencies allora nso sono le agenzie nazionali legate ai twinning se cliccate lì ora si vede dopo ma restiamo su questa slide se cliccate lì vi fa vedere le varie agenzie nazionali dei dei vari paesi legate ai twinning e come sapete per noi abbiamo detto a indire altri partner che collaborano lì se d'accordo agenzie nazionali invece se cliccate lì vi dà le agenzie nazionali di Erasmus più in questo caso semplicemente per noi è la stessa cosa perché tutto ha sede all'interno dell'indire è vero però che se cercate informazioni o helpdesk si viene dirottati in due ambiti totalmente diversi insomma c'è chi si occupa di twinning e c'è chi si occupa di Erasmus i contatti e la newsletter se già detto se scorriamo alla slide dopo eccoci allora questo è quello che vi dicevo le e twinning national support organization che per noi appunto è a Firenze esiste l'agenzia nazionale e esiste anche un'agenzia centrale central support service che è Bruxelles che coordina le attività di twinning qui ci sono soltanto i riferimenti se avete bisogno di scrivere appunto in genere per un helpdesk ma anche perché avete dei dubbi sull'organizzazione di un progetto insomma possono dare tutta una serie di riferimenti insights momentaneamente è vuota development questo è interessante e vi da school and system development e professional development professional development è quello che interessa a noi cioè c'è un catalogo di corsi di formazione e di webinars ai quali si può si può aderire che si possono scegliere se andiamo alla slide successiva si vede meglio ho fatto uno screenshot proprio per evitare la lentezza nel caricamento delle pagine ecco qui c'è un overview dei corsi disponibili in questo caso ci sono alcune alcune offerte per esempio la qualità nei progetti twinning qui l'accreditazione Erasmus per la mobilità una varietà di corsi se andate poi corsi webinar potete scegliere è piuttosto utile piuttosto interessante carini anche questi self-paced perché sono corsi che potete seguire con la vostra velocità fate il guardate i materiali completate i task che vi vengono dati e alla fine ottenete una una certificazione in generale funziona così si assiste e se uno completa tutti i task necessari ottiene una certificazione sono in genere abbastanza interessanti questi sono in inglese ma ci sono via via nelle varie lingue quindi a volte ci sono anche in italiano questo è quello che vi consigliavo prima ogni tanto faccio un giro guardo se c'è qualcosa che mi interessa se c'è qualcosa che mi interessa mi scrivo riesco a portare in fondo il corso benissimo non ci riesco beh raccolgo materiali lo rifarò più avanti oppure semplicemente trago beneficio dai materiali che ho avuto il bello di twinning è che tutti condividono con diciamo senza problemi non c'è non c'è questo è mio c'è una condivisione dei materiali condivisione delle esperienze che è poi lo spirito della della comunità ci sono anche vari webinar e penso che anche qui questi sono a livello centrale però ci sono anche in italiano e credo che ci sarà una certa concentrazione ora passata la scadenza del 28 sulle tecnologie perché i temi del PNRR sono caldissimi in Italia quindi ci sono delle potenzialità per esempio anche ora in vista di questa scadenza nel progetto che riguarda la propria istituzione ecco se il vostro istituto è coinvolto in progetti europei beh è il caso di segnalarlo e di pensare a delle tecnologie che vi permettano di portare avanti anche questi progetti d'altra parte ricordiamoci che si tratta comunque di fondi che vengono dall'Europa insomma e quindi li stiamo utilizzando in una in una dimensione giusta in una dimensione che arricchisce noi e che arricchisce i nostri studenti andando avanti nella prossima diapositiva allora se guardate recognition sto seguendo le etichette home about insights development recognition recognition non ho fatto lo screenshot perché vi dice che tipo di riconoscimenti offre i twinning ai partecipanti quindi per esempio il quality label se un progetto alla fine di un progetto si è stato realizzato in conformità con dei criteri di qualità che sono comunque esplicitati all'interno della della piattaforma ci sono i premi nazionali i premi europei c'è il certificato di twinning school quindi vari tipi di riconoscimenti e poi la parte più importante è quella in questa slide networking networking è quello per cui la piattaforma è nata creare una rete networking che è la cosa più bella di twinning la rete guardate che non sono retorica se vi dico come ha detto simona bernabè in apertura questo ci ha salvato durante la pandemia cioè durante la pandemia chi era nei twinning ha fatto rete e si è trattato di una rete che è stata anche una rete di emergenza io penso alla rete del circo se cadi ti sostiene e quindi fare rete è un'ottima cosa è il cuore di twinning e permette la creazione di rapporti che resistono che poi inevitabilmente diventano anche rapporti personali ma che hanno un valore come rapporti professionali e per esempio in questo momento se pensate alla Turchia a quello che è successo in Turchia esiste una rete di supporto ai partner turchi molto forti all'interno di twinning quindi penso proprio pensate anche da un punto di vista scolastico in una realtà devastata cosa succede e quindi c'è una rete che comunque fa riferimento alla dad che sostiene queste queste scuole e che viene fatta spontaneamente dai loro partner allora dalla parte networking io posso trovare partner allora guardate un attimo school and organizations se so la scuola se conosco la scuola partner finding se clicco partner finding mi apre dei forum forum dove le persone postano le loro idee progettuali dove io posso postare le mie e le altre persone rispondono e così si formano dei partenariati people cerco gli insegnanti per per nome projects posso vedere i progetti già esistenti se spero di potermi unire a uno di questi vi faccio notare che posso creare un progetto con una persona ovviamente solo se ce l'ho nei miei contatti so che non è un bel esempio ma pensate a qualsiasi social pensate a Instagram pensate a Facebook cioè la persona per poterci interagire devo portarla nei miei contatti si fa come su qualsiasi social mandi una richiesta di contatto questo è molto intuitivo non è assolutamente difficile immagino che la notifica che io sia appunto una richiesta di contatto ve lo ridico quindi scuola cerco il nome della scuola mettiamo che ho già trovato un partner vado a cercarlo in quella scuola partner finding è il forum dove posto le mie idee o rispondo alle idee altrui people cerco la persona per nome per chiedergli il contatto progetti se conosco un progetto e mi voglio unire andiamo avanti eccoci l'ultimo l'ultima etichetta è i twinning ora sono entrata dentro i twinning questo è come vi appare l'interfaccia della persona che si è registrata ai twinning io vedo i link veloci per creare un progetto o per il partner finding se clicco il partner finding mi riporta a quello che abbiamo visto prima cioè mi riporta lì come lo vuoi cercare per scuola vuoi cercarlo per persona vuoi cercarlo sul forum quindi questo è questo è il profilo se guardate nella parte arancione sotto dove è scritto i twinning gruppi mi fa vedere i miei gruppi my projects se ho già dei progetti e support mi rimanda all'help desk ancora quella dopo e poi abbiamo completato se voglio creare un progetto chiaramente do create a project una cosa carina che vi dico subito creo un progetto e non c'è selezione cioè io creo un progetto mi chiedono di compilare una maschera dove metto i dettagli del mio progetto ma molto molto in generale e la valutazione non è qualitativa la valutazione qualitativa se voglio la chiedo io alla fine del progetto ma qualsiasi idea progettuale viene accettata creo un progetto lo condivido con un partner il partner accetta di creare questo progetto insieme a me fatto questo aspettiamo che le nostre rispettive agenzie nazionali la mia e quello del mio partner validino il progetto ma non è che se lo leggono e dicono si è bellino lo validiamo no è brutto questo non si valida vengono validati tutti perché questo è lo spirito do la possibilità di collaborare si manda quella dopo che è la maschera per creare il progetto guardate non l'ho aperta tutta mi dice seleziona la scuola la scuola che seleziono è la mia perché io potrei insegnare su più di una scuola io no scegli il partner io scelgo il partner mi fa pescare solo all'interno dei miei contatti scelgo il partner chiaramente glielo devo aver detto prima non si manda mai un progetto a uno senza averci prima parlato mi chiede la descrizione del progetto molto brevemente molto brevemente tutti noi siamo abituati a progettare e sappiamo come è fatto un progetto ma è una cosa facilissima mi chiede gli obiettivi che posso selezionare in un menu mi chiede la lingua mi chiede alcuni dati essenziali poi me lo fa rivedere e alla fine lo invio una volta che l'ho inviato l'approva il partner e poi si aspetta che l'approvino le nostre agenzie nazionali quando l'hanno approvato ci danno uno spazio su cui lavorare e questo è lo spazio sicuro dove siamo solo io il mio partner e i nostri alunni e con questo lascio la parola a Simone che ve lo fa vedere grazie grazie Laura grazie bene sì infatti ora passiamo al passo successivo e seguendo un pochino le orme di Indiana Jones e soprattutto di Laura di Francesca ci addentriamo un poco in un progetto cioè entriamo finalmente in un in un twin space vero e proprio allora abbiamo fatto alcune premesse che riguardano l'attuale situazione della piattaforma nuova dopo che c'è stata una migrazione e abbiamo detto che si lavora un pochino a rilento rispetto al passato per chi ha già esperienza per chi non ha esperienza bene benvenuti sappiate che non vi verrà chiesto di correre in realtà ho voluto occuparmi proprio del twin space questa sera perché in realtà ci si sta lavorando ecco in maniera meno frenetica del solito perché è abituato a lavorarci proprio perché a volte è un pochino più lenta caricare le pagine e quindi la cosa si riflette anche sull'attività che chiediamo ai ragazzi però ci si lavora si riesce tranquillamente appunto a fare ciò che siamo abituati a fare bene quindi seguirò per questa parte della presentazione un po' come ha fatto Laura i dettagli le varie parti della della finestra che si apre a tendina sotto il nome del dell'e-queener allora innanzitutto vediamo qua la mia la mia pagina di presentazione non per protagonismo ma perché è quella che trovate quando cercate un qualunque contatto un insegnante con il quale svolgere un progetto iniziare a fondare un progetto quando a parte la foto che insomma vi consiglio di scegliere la migliore a parte la foto c'è la descrizione ovviamente della tipologia di insegnante che vi trovate di fronte quindi la materia di insegnamento l'età degli studenti gli interessi personali questo è fondamentale perché chiaramente difficilmente riuscirò a fondare qualcosa di soddisfacente per quanto riguarda me e i miei se lo farò con docenti che hanno interessi di tutt'altro tipo rispetto ai miei possiamo vedere alcune caratteristiche della persona in oggetto ad esempio se ha quei simboli come ho io ad esempio quei due pallini ognuno di questi ha dei significati in questo caso collaborazione con l'unità nazionale e la stellina penso sia di ambasciatore ora non ricordo nella migrazione non ci sono giunti tutti però comunque ci dà un'idea di sapere anche che esperienza ha la persona con la quale inizio a lavorare e questo è molto importante soprattutto se sono alle prime armi e se sono le prime esperienze che svolgo in e-tweening una volta che siamo appunto all'interno del nostro account e quindi abbiamo un'immagine di questo tipo sulla destra come dicevo possiamo aprire la tendina con le varie parti relative appunto al queen space personale purtroppo anche in questo caso abbiamo dovuto optare per degli screenshot mentre normalmente eravamo abituati a navigare direttamente sul sito nei webinar precedenti appunto per evitare problemi legati alla lentezza che in certi orari soprattutto si nota abbiamo preferito lavorare così cercheremo di non essere troppo troppo noiosi io direi passiamo alla slide successiva così andiamo poco a poco a vedere le varie le varie parti del queen space allora questo è il queen space anticipo una parte del progetto che ho in corso al momento con altre quattro colleghe io insegno spagnolo come ho detto come ha detto Simona in presentazione sono un insegnante di lingue quindi per me la piattaforma di twinning è l'ideale per poter far sì che i ragazzi usino la lingua straniera in attività pratiche in compiti di realtà nell'attività didattica quotidiana in realtà però nel corso del tempo mi è capitato di lavorare con colleghi di discipline non linguistiche di altre nazioni che avevano invece interesse a svolgere attività nella propria lingua sulla propria materia e quindi nel mio caso in spagnolo oppure anche di svolgere in passato attività di CLIL con colleghi di disciplina non linguistica utilizzando invece i twinning per sviluppare progetti legati ad argomenti magari maggiormente legati alla tecnologia o all'arte o alla storia andiamo qua sul nostro twin space abbiamo il titolo del nostro progetto e come in qualunque piattaforma in realtà l'utilizzo è abbastanza intuitivo a parte le varie parti che vediamo nella parte superiore che ci riportano ancora la piattaforma ESEP che appena ha descritto Laura sotto il titolo in questo caso introdurse e si sombras abbiamo le parti del twin space quindi la home che è quella in cui stiamo le pagine nelle quali organizziamo dividiamo organizziamo il nostro progetto la parte relativa ai materiali quella dedicata ai forum le parti relative all'incontro tra i ragazzi il meeting online la parte che riguarda i members e quella relativa al supporto nella parte a destra in alto oltre al nostro profilo abbiamo la lente per la ricerca di qualunque argomento ci possa interessare nel dettaglio altrimenti il pulsante che ho indicato con questa freccia rossa è proprio quello che serve a editare il twin space cioè a lavorare direttamente sul twin space quindi vediamo come lavorare un progetto andiamo alla diapositiva successiva dove vediamo che per praticare un buon project based learning appunto un apprendimento basato sul progetto è fondamentale appunto lo dice la parola stessa la progettazione quindi in primis con i colleghi una progettazione condivisa che deve partire dal principio proprio dal porre le basi a quello che sarà il lavoro del gruppo quindi c'è la possibilità di effettuare incontri in sincrono vere e proprie riunioni per confrontarsi sulle tipologie di classi capire come possiamo impostare il lavoro quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare e soprattutto all'inizio condividere il materiale anche su Drive non necessariamente su TwinSpace da subito in modo da avere appunto un punto di partenza comune condiviso gli incontri di progettazione sono fondamentali io personalmente cosa molto gradita anche dai colleghi e dal mio dirigente inserisco la parte di progettazione già all'interno della mia progettazione didattica all'inizio dell'anno quindi condivido con il consiglio di classe l'intenzione di effettuare un progetto in lingua straniera lo condividiamo con i rappresentanti dei genitori che poi lo dicono agli altri genitori insomma si sa che la classe in determinati momenti entra a contatto pur elettronico oppure a distanza con compagni di altre scuole europee per portare a termine dei lavori comuni questo è molto molto utile sicuramente quindi progettazione sincrona riunioni e asincrona a distanza il drive come sappiamo ci salva molto spesso ci permette di lavorare anche in tempi morti e in tempi diversi sullo stesso documento in tanti passiamo alla slide successiva e vediamo che un un twin space normalmente è diviso in pagine più si è precisi nella creazione nell'organizzazione delle pagine più si è sicuri di avere sempre sott'occhio la situazione lo sviluppo del progetto e di sapere dove si è cosa si sta facendo oggi proprio per vedere per dimostrare che il twin space sta comunque funzionando regolarmente vorrei mostrare alcune cose che stiamo facendo appunto con i ragazzi con le nostre classi abbiamo qua uno screenshot di una parte solo le prime pagine del progetto che si creano in modo molto intuitivo appunto come si vede in alto a destra c'è un tasto crea pagina e cliccando sul quale posso appunto creare una pagina nuova posso decidere dove inserirla se porla come sottopagina di una pagina che ho già creato ad esempio in questo caso siamo partiti dalla definizione di quelle che sono le regole del nostro progetto quindi una pagina dedicata agli iscritti quindi alle loro presentazioni ora vedremo come l'organizzazione dei gruppi definiremo un pochino meglio questa cosa la parte relativa alla e-safety all'etiquette di progetto che va sempre condivisa sin dall'inizio del resto queste attività ci permettono non solo di lavorare a livello linguistico ma anche sulle competenze digitali su quelle civiche legate appunto alla sicurezza online al bullismo al cyberbullying eccetera abbiamo posto delle pagine dedicate alle regole sulla proprietà intellettuale quindi le immagini abbiamo spiegato loro come cercare immagini in creative commons libere da diritti che possano essere rese pubbliche nei lavori che poi ovviamente pubblicheremo anche sul sito di istituto sui social questa deve essere una cosa di cui i ragazzi devono avere coscienza sin dal principio perché è ciò che devono rispettare anche al di fuori del progetto nella loro attività quotidiana abbiamo poi una parte dedicata alle varie app programmi che utilizzeremo nel corso del progetto una parte relativa al GDPR quindi abbiamo chiesto degli appositi permessi legati a questo progetto ai genitori delle liberatorie perché a volte appunto ci sono attività per le quali si decide di magari registrare un video e sempre solo sulla piattaforma sui twin condividerlo con i compagni delle altre scuole quindi in ogni caso si preferisce chiedere permesso ai genitori anche di un'attività di questo genere anche qualora abbiano già firmato la liberatoria scolastica legata alle attività che vengono effettuate attività di tipo didattico che vengono effettuate in classe abbiamo dedicato una parte all'integrazione curricolare spieghiamo anche perché il nostro progetto non è una cosa improvvisata ma fa parte del curriculum della programmazione delle nostre classi personalmente nei miei progetti cerco di anzi volontariamente scelgo progetti che mi permettano di sviluppare parti del programma di letteratura o di storia insegno appunto in terza in quarta in quinta faccio letteratura e il periodo storico della letteratura spagnola quindi mi interessa svolgere attività che non mi facciano tra virgolette perdere tempo rispetto al programma che devo portare a termine ma che mi permettano semplicemente di sviluppare parti del programma in maniera un po' diversa quindi specifichiamo anche l'integrazione curricolare e il piano di lavoro eccetera e andiamo alla diapositiva successiva dove vediamo un esempio di come gli alunni si sono presentati anche in questo caso per chi già ha lavorato in quini gli abitui diciamo come vedete queste sono cose che hanno fatto i ragazzi loro entrano regolarmente ci lavorano devo dire che anche con connessioni in aula quindi a volte non sempre con l'aula informatica a disposizione ma con l'hot spot del pc portatile in aula abbiamo fatto attività e vanno si collegano abbastanza tranquillamente la piattaforma permette di lavorare anche diciamo in sincrono quindi va molto bene questa è una delle presentazioni dei ragazzi di Sofia come come abbiamo fatto proprio per inizialmente per far sì che tutti riuscissero ad agire ad interagire con la piattaforma senza essere magari rallentati o spaventati da questo ambiente nuovo abbiamo chiesto loro di crearsi un avatar e di inserirlo in questa presentazione condivisa una presentazione con Genialy su ogni personaggio c'è un simbolino che è una persona oppure una stellina qualcuno ha messo cliccando su quello c'è la loro presentazione che ognuno si è preparato appunto con Genialy con questo programma molto semplice da usare che noi insegniamo loro vi facciamo vedere come funziona e nel giro di un quarto d'ora loro hanno già una dimestichezza superiore alla nostra praticamente e in modo che con la versione free gratuita possano creare una piccola pagina in cui parlano di loro si presentano e che i compagni possano vedere andiamo avanti e nella pellicola nella diapositiva successiva vediamo invece come altre opzioni sono possibili altre modalità didattiche una cosa che a chi non è esperto può sembrare magari difficile e in realtà non lo è si possono anzi si consiglia quando si prende un po' la mano con la piattaforma si possono creare gruppi internazionali cioè gruppi nei quali i ragazzi delle varie scuole misti lavorano tra di loro per arrivare a prodotti comuni qua ho messo lo screenshot di una parte della rubrica che abbiamo creato della griglia che abbiamo creato e che teniamo per tutto l'anno per tutto lo svolgimento del programma del progetto ci sono vari gruppi essenzialmente cinque ogni insegnante alla responsabilità di un gruppo ogni scuola ogni classe ha messo all'interno del gruppo alcuni alcuni membri ha diviso i propri membri tra i cinque gruppi presenti chiaramente le classi con maggior numero di studenti come quella della collega bulgara hanno sei alunni cinque sei alunni per gruppo le classi più piccole come la mia la collega di Bologna o la collega francese hanno gruppi un pochino più ridotti però ad esempio la collega spagnola ne ha molti anche lei qua non si vede nella parte al di sotto abbiamo per abbiamo scelto appunto un insegnante per gruppo come responsabile ma in realtà noi siamo responsabili nel nostro gruppo semplicemente di fomentare il lavoro di motivare di dire nel forum di apparire di dire ecco abbiamo dato questa consegna ci siete avete consegnato ricordatevi che fra tre giorni faccio un esempio dovete presentare il vostro lavoro in realtà poi come si vede ci sono nomi evidenziati all'interno di ogni gruppo che ogni scuola inserisce ogni gruppo di ragazzi ce n'è uno evidenziato che è responsabile per il suo gruppo il gruppo della propria classe che fa parte di uno dei cinque gruppi creati ecco c'è un responsabile che fa sì che tutti si rispettino le scadenze partecipino alle attività in modo che si sentano tutti motivati al lavoro andiamo pure avanti con la prossima slide dove vediamo ecco come comunicano i ragazzi i ragazzi tra di loro comunicano con i forum sulla piattaforma ho preso come esempio il forum legato alla e-safety e alle competenze digitali nella pagina che vediamo sulla sinistra nella pagina dedicata appunto alla netiquette e alla sicurezza online dove abbiamo messo i link alla netiquette di progetto abbiamo messo un link a una presentazione in Canva dove abbiamo inserito i punti che devono essere sempre rispettati in ogni attività svolta dai gruppi condivisi sulla parte a sinistra si vede un pulsante azzurro con scritto vai alla discussione ecco questo vai alla discussione porta e lo vediamo sulla destra a un forum dove i ragazzi possono interagire in questo caso era il primo quindi chiedevamo loro ci serviva soprattutto che prima cosa leggessero la netiquette e appunto la parte sulla e-safe e come seconda cosa che provassero a buttarsi sul forum a vedere che era una cosa assolutamente fattibile effettivamente funzionava come un forum di qualunque di qualunque altra piattaforma e quindi chiedevamo loro di commentare secondo loro quali fossero le regole più importanti di quelle di quelle lette nella netiquette e qua appunto sono intervenuti sono d'accordo con te io penso che le regole le più importanti siano questa e quest'altra insomma spiegano un poco e già in questa in questa occasione prima di scrivere leggono quelle già inserite dai compagni e c'è sempre in questa cosa una curiosità che veramente è divertente perché ci si rende conto come come sia differente il chiedere loro di scrivere dei messaggi come in questo caso delle minime produzioni scritte come compito che gli chiediamo semplicemente e come sia invece il dover inserirle all'interno di un forum sapendo che le leggeranno dei compagni stranieri tra questi soprattutto dei madrelingua degli spagnoli che stanno lavorando su argomenti di letteratura e storia ma nella propria lingua madre non in una lingua di seconda e quindi anche questo è molto interessante e li motiva molto andiamo alla diapositiva successiva dove invece vediamo la parte seguo sempre il percorso indicato sopra la parte che riguarda i materiali materiali che possiamo inserire sono immagini video c'è proprio uno spazio per inserire il link al video che vogliamo inserire e file di qualunque tipo quindi possono essere jpeg pdf e possono essere inseriti senza problemi anche questa cosa all'inizio dell'anno c'era un po' di lentezza a caricarli non si riusciva e dico per gli twinners che magari si siano un po' demotivati all'epoca guardate che adesso li sta prendendo tutti molto tranquillamente ecco si riesce a caricare il materiale molto più di prima sta prendendo il ritmo è questo che vorrei ricordare continuamente andiamo pure avanti apro una parentesi relativa ai materiali teniamo presente che riportando tutto al discorso di prima ad ESEP quindi anche ad Erasmus ricordiamoci che ormai nel programma Erasmus 2127 2127 è proprio chiaramente esplicitato che l'utilizzo della piattaforma e-tweening è caldamente consigliato anche per lo scambio dei materiali di un progetto Erasmus quindi avere la possibilità di creare un progetto legato un progetto e-tweening legato al progetto Erasmus che stiamo svolgendo ci permette di utilizzare la piattaforma per lo scambio dei materiali che è una cosa appunto molto importante che viene valutata molto positivamente anche poi in termini di valutazione del progetto stesso come dicevo appunto la parte dei materiali ci permette proprio quello di scambiare materiali che ci servono anche per lo scambio vero e proprio lo scambio Erasmus in questa parte invece appunto dove facevamo riferimento al forum ho scelto di fare questa 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 slide dedicata proprio per ragionare sul fatto che c'è sì questa possibilità di comunicazione asincrona in L2 lingua 2 quindi cliccando su nuova discussione posso lanciare un qualunque forum nuovo legato all'argomento ovviamente solo gli amministratori del progetto lo possono fare chiaramente non è mai accaduto è uno studente magari per scherzo aprisse un forum di qualunque tipo ecco chiaramente solo gli amministratori possono aprire il forum quindi e comunque non avverrebbe perché le condizioni le regole vengono chiarite da subito nella netiquette nella parte relativa al disegno e quindi questa è una cosa molto chiara da subito possiamo passare alla slide successiva perché se la comunicazione è asincrona cioè nel forum è molto importante perché dà il tempo di scrivere senza fretta ad esempio su argomenti diciamo un pochino che richiedono un maggiore approfondimento e quindi permettono ai ragazzi di lavorare da casa senza urgenza ci sono anche possibilità invece di comunicazione in sincrono che ho messo nella slide successiva eccolo comunicazione in sincrono dove appunto oltre alla possibilità del forum c'è quella del eccolo scusate no sì questo è un esempio del forum dove i ragazzi in questo caso lavorano nei gruppi internazionali ecco perché l'ho scelta questo è un esempio questo gruppo deve lavorare delle parti di storia che riguardano l'inquisizione spagnola in America ed ecco qui che ci sono tre interventi nello stesso forum in cui un'alunna bulgara dice ho scelto il tema del qua ci sono le mie alunne italiane le tre che lavorano insieme in quel gruppo noi parliamo di questa dell'inquisizione oggigiorno perché anche in questo caso notare come interessante è malleabile la cosa gli alunni spagnoli che stanno trattando nella propria lingua l'epoca dell'inquisizione lavorano in parallelo con alunni nel mio caso di quinta che inquisizione non ce l'hanno più in programma ma che si collegano all'argomento parlando di quella che può essere considerata inquisizione oggigiorno quindi si collegano a temi l'educazione civica che interessano agli alunni spagnoli proprio per quello come educazione civica e sotto c'è una risposta ancora degli spagnoli che invece dicono appunto noi lavoreremo su come l'inquisizione influì in questo caso sulle opere di Cervantes di che vedo che per noi è un ripasso importantissimo perché sono riferimenti che abbiamo anche nella letteratura contemporanea e questo simbolo questo disegno che ho messo accanto è proprio per indicare che in questo caso su questi forum hanno lavorato anche dal cellulare in classe con lo spot fatto dal computer e quindi un tipico esempio di didattica nel quale vengono utilizzati i device su richiesta dell'insegnante andiamo pure alla diapositiva successiva la sera la parola diapositiva non mi vuole venire in mente perché nella comunicazione sincrona invece che è un'altra possibilità abbiamo due possibilità su space gli incontri online quindi dei meeting veri e propri organizzati in contemporanea tra due o più classi quindi con l'insegnante presente e quindi sempre più che sicuri fissando l'orario e il momento in cui si vuole appunto organizzare l'incontro lo vedremo poi quando passeremo alla slide successiva oppure partecipare ad una chat questo in forma scritta anche in questo caso non è una chat alla quale i ragazzi possano accedere liberamente quando vogliono ma viene aperta dagli insegnanti contemporaneamente in un unico momento e quindi permette di lavorare sempre in diciamo in semi autonomia ragazzi scrivono in chat ma sono in classe con me io seguo sulla chat cosa stanno scrivendo insomma è comunque una presenza rassicurante soprattutto per noi ma anche per loro andiamo alla slide successiva ed eccoci quella di sinistra ci mostra proprio come organizzare un meeting online prevedo magari la domanda da qualche collega ne avete già organizzati quest'anno no non ancora quindi non so dirvi poi se l'attuale lentezza della piattaforma vada ad inficiare un po' l'effetto della connessione sul meeting online per quanto riguarda l'organizzazione possiamo dire che si pianifica come si faceva già in passato nella precedente do un titolo al meeting che può essere riunione di controllo può essere incontro di metà percorso o qualunque tipo di percorso o incontro del giorno della memoria incontro del giorno della lingua madre insomma le opportunità di incontro sono veramente tante che ci permettono di collegarci appunto alla programmazione anche interdisciplinare con altre materie descrizione dell'incontro numero di partecipanti previsto insomma ecco c'è la possibilità di fissare la durata la data e l'ora in cui vogliamo organizzarla si cerca lo slot disponibile in genere sono già già precedentemente erano tutti molto liberi la mattina ecco si trovava sempre la possibilità di farla la parte di destra invece è un esempio di chat questa è solo stata organizzata ieri vi ho scritto una prova per far vedere come appare nella parte alta abbiamo tutto l'elenco è lunghissimo prosegue per moto perché ovviamente sono tutti i membri che hanno diritto a partecipare a questa chat quindi sono tutti gli alunni che noi abbiamo che abbiamo inserito all'interno del progetto e possiamo andare avanti perché comunque questa è una chat che funziona normalmente ho detto i membri del progetto come inserisco i ragazzi nella piattaforma è molto semplice la freccia rossa indica il pulsante per aggiungere o invitare membri è successa anche in questa slide la cosa che diceva prima Francesca al momento fa ancora un po' questo gioco io normalmente ho il twin space in spagnolo ieri l'ho messo in italiano e nei giorni scorsi per fare gli screenshot e ne fa uno in italiano poi scatta in automatico in inglese ancora è ancora un piccolo bug da sistemare ma tanto diciamo è un livello sicuramente comprensibile aggiungi o invita membri questo ci dà la possibilità di mettere nome e cognome del ragazzo perché resta dell'alunno o della luna perché resti a noi e in quell'occasione possiamo inserire una password noi docenti in qualunque momento con la freccia che vediamo in azzurro posso esportare il file excel con tutti i nominativi dei miei studenti che ho inserito ovviamente soltanto per privacy non quelli degli altri che è una cosa molto utile perché salva loro e salva anche la password che ho impostato che se siete docenti organizzati e ordinati avrete sicuramente salvato da qualche parte o di stare segnati nel mio caso spesso invece non è così quindi capita a volte che un alunno mi chieda prof non riesco a entrare riproviamo insieme e hai controllato che la password sia giusta però sono io il primo che lo ricordo quindi scarico questo file e ho tutto salvato e rimane per tutto il progetto quindi è una è un bel paracadute diciamo molto importante benissimo questa quindi è una cosa importante e vado a concludere abbiamo visto come organizzare il twins in pagine e ordinarle abbiamo visto che c'è la parte dedicata ai materiali abbiamo detto che possono essere molto importanti anche per inserire i materiali di un progetto Erasmus che è caldamente consigliato l'utilizzo di twinning come mezzo di comunicazione nei progetti Erasmus abbiamo visto che i ragazzi possono comunicare tra di loro in modo asincrono con i forum e in modo sincrono con i meeting online o con le chat e abbiamo visto qua dove inserire i membri del progetto e come recuperare l'elenco dei nostri iscritti con le password e tutti i dettagli in modo da poter in qualunque momento diciamo trovare ritrovare il modo di entrare e l'ultimo elemento che rimane a destra è quello del supporto che è già stato anticipato prima andiamo all'ultima slide quindi dove ho inserito nuovamente la foto per ricordarvi che siamo veramente in tanti sparsi su tutto il territorio e che possiamo essere rintracciati facilmente dal questo link dal nostro sito erasmusplus.it ambasciatori scuola toscana in questo sito trovate i nostri profili ovviamente abbiamo tutti la stessa preparazione su tutto ma nei nostri profili potrete vedere chi ha una maggiore esperienza ad esempio su Erasmus chi ce l'ha più approfondita sui twinning chi ha ovviamente appare la materia che insegniamo il grado di scuola in cui lavoriamo quindi ciò vi può anche essere più utile per capire magari a chi rivolgervi in modo diretto per avere la risposta alla domanda che vi interessi maggiormente credo che abbiamo finito la presentazione anzi ne sono certo e quindi penso anche che potremmo tornare a a a noi appunto nel caso si ci fossero in chat domande eccoci qua eccoci qua eccoci qua dunque intanto io vorrei ringraziare tutti e tre perché perché il lavoro non era semplice perché ogni volta che si affronta nuovo strumento e si cerca di raccontarlo è un sia un ruolo non complicato ma insomma per voi che ormai usate questi strumenti da tanti anni ma comunque articolato diciamo e abbiamo fatto una panoramica secondo me il focus appunto sul sul come ma anche sul cosa perché in realtà poi questo è un momento in cui come ricordavano Laura Simone e Francesca siamo tutti alle prese con o quasi tutti alle prese con questa progettazione iniziale per i fondi del PNRR e PNRR scuola e qualcuno di noi anche sul progetto per l'inclusione per cui diciamo che training è uno strumento veramente eccellente da utilizzare in queste due prospettive sappiamo che per adesso si tratta di una progettazione abbastanza scheletrica diciamo nel senso essenziale ma che poi quando e se questi fondi arriveranno nelle diverse scuole quindi quando noi avremo a partire dal primo settembre dell'anno prossimo ossia di quest'anno ma del prossimo anno scolastico dovremo entrare nelle classi e fare questa questa didattica innovata potremmo utilizzare Twinning che è uno strumento che l'innovazione la fa dal 2000 dai primi anni del 2000 insomma su varie vesti in varie in varie forme noi siamo qui se volete io stavo tenendo d'occhio la chat ho visto che domande non ce ne sono io direi innanzitutto vi ricorderei ricorderei a tutti un paio di date e un paio di cose nel frattempo così se qualcuno vuole chiederci qualcosa lo faremo ricordate che le domande possono essere sempre come vi ricordavo anche Francesca Simone e Laura poste al gruppo individuando anche l'ambasciatore o l'ambasciatrice più vicino a voi con cui potete parlare anche di viso oppure concordare un appuntamento tra l'altro colgo l'occasione a questo proposito per annunciare anticipare che stiamo organizzando il gruppo toscano sta organizzando un servizio di help desk online e renderemo note presto le date e anche i diversi ambasciatori che diciamo si alterneranno in questo ruolo e quindi questa sarà una buona occasione anche per avere un appuntamento con qualcuno di noi o qualcuna di noi per diciamo sottoporre dei quesiti molto che richiedano risposte personalizzate ecco quindi ci organizzeremo né più né meno come i colloqui in tempo di covid chi di noi ha utilizzato meet e gli appuntamenti per per questo scopo in modo da avere proprio un piccolo spazio personalizzato diciamo perché poi ognuno ha questioni potrebbero essere simili ma anche molto differenti e particolari nel senso particolareggiate e dettagliate in modo diverso vi renderemo vi informeremo su tutti i dettagli in che modo noi e questo risponde anche a chi mi manda mail mi chiede informazioni sulle date o richieste di mail personali noi cerchiamo il più possibile di inviare a tutti risposte e mail di invito certamente non è facilissimo quando quando dobbiamo organizzare webinar o eventi in presenza poter mandare le ci proviamo però qualcuno ci può sfuggire dunque i canali da seguire sono sicuramente le note dell'ufficio scolastico regionale che arrivano tutte le scuole della Toscana evidentemente quindi se voi siete da fuori regione o addirittura da fuori nazione come ho visto qualcuno era iscritto da altre nazioni ci fa molto piacere certamente quello non è il canale giusto però invece può essere un canale giusto il nostro profilo facebook il nostro profilo instagram e i nostri profili personali quindi se voi seguite quelle indicazioni che vi hanno dato i miei colleghi circa il portale dei twinning parte italiana diciamo o comunque poc'anzi Simone vi faceva vedere anche se voi andate su erasmusplus.it e cercate gli ambasciatori scuola trovate come vi dicevo le nostre mail e tutto quindi potete sui nostri profili anche personali spesso trovare le informazioni altra cosa e chiudiamo fra due minuti vi chiedo ancora della vostra attenzione vi ricordo le prossime date noi avremo il 13 di marzo un webinar che sarà dedicato c'è stata un'ampia richiesta in seguito al nostro webinar del 22 di gennaio scorso di esempi concreti di progetti di progettazione come si fa come si progetta e come si gestisce il progetto e il 13 marzo Marcella Biserni e Nadia Buti parleranno proprio di questo presentando degli esempi concreti e poi il 14 marzo invece ci sarà un evento in presenza presso a Colle Valdelsa alla scuola all'istituto all'IC2 Arnolfo di Cambio la scuola di Laura Maffei e inizierà alle 3 del pomeriggio fino alle 7 del pomeriggio e il titolo sarà dedicato ad Erasmus e Twinning quindi ci occuperemo di Erasmus e Twinning insieme con un focus particolare sull'inclusione ci saranno esempi di buone pratiche ci saremo Laura ed io che vi racconteremo i Twinning vi racconteremo l'esperienza ai Twinning in Toscana e quindi se volete venire a Colle Valdelsa se siete nei paraggi aiuto il gatto sta strappando sta strappando la cuffia pensavo di aver detto qualcosa di strano invece mi sono accorta che era il gatto quindi questo per quello che riguarda il 14 marzo poi abbiamo in programma due webinar dedicati visto che si è parlato tanto di trasformazione digitale di PNRR abbiamo pensato di dedicare uno probabilmente due webinar a questo tema con alcuni di noi presenti ma altri di noi non presenti che comunque sono in linea con noi questa sera saluto tutto quanto il gruppo naturalmente che è con noi e ci sostiene questa sera e tutti questi eventi verranno pubblicizzati ripeto tramite nota dell'ufficio scolastico tramite i canali social ultima cosa che vi dico la registrazione di questo webinar ricco di materiali tecnici molto importanti e anche di riferimento al momento che si fa l'iscrizione o la navigazione nella nuova piattaforma sarà caricata rapidamente su youtube Twin in Toscana e sul canale del liceo statale Rosmini di Grosseto e anche sul portale il link verrà messo anche sul portale dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana vedo le domande non ci sono domande se voi volete aggiungere qualcosa in chiusura e passiamo ai saluti niente grazie a tutti ok ok allora io ringrazio tutti ringrazio naturalmente Francesca Pansica Simone Bionda e Laura Maffei e anche da parte mia Simona Bernabè grazie a tutti e ci vediamo presto e grazie per l'attenzione e buona serata buona serata buona serata arrivederci grazie credo che siamo fuori però non sarei sicura nascondi o mostro parlando di controllo no aspettate registrazione ok no sto facendo grazie a tutti